Musica Mi chiamo Romano Bignozzi, sono milanese Sono stato chiamato all'Expo per aiutare a organizzare lo studio di esecuzione del lavoro Sono venuto qui nel 2009, settembre Ho avuto la fortuna che mi hanno messo vicino un sacco di buoni figlioli Soprattutto, quasi tutti laureati, con voglia di fare Devo dire la verità che loro mi dimostrano molta passione Perché quando sono arrivati qui appena laureati Ho visto che avevano bisogno di mettere in pratica il loro studio Quindi ormai lavorano qui da 700 giorni Ogni giorno devo dire che a volte devo correggermi perché gli sto sempre addosso Il lavoro ci ha preso tutti, è un lavoro molto interessante È un lavoro che sicuramente ci impegna Abbiamo il desiderio di portarlo a termine Perché il nostro principio è di vedere e di fare le cose col tempo che si ha a disposizione È un lavoro che si ha a disposizione